Oggi siamo qui per fare l'unboxing di questo pacco Porco il cazzo No ma di solito li apro più velocemente In realtà c'è un panetto di droga, no non è vero, quella non la compro online No fratm, cosa stai dicendo? Questa cazzo di cazzo Questo qua c'è un pacchetto un cadavere appena posso No ma, no che troia Come cazzo si fa? Guarda, mo gli metto fuoco Vaffanculo il bestazzo Signori sta uscendo Oddio ma sta roba sa proprio di Giappone, Cristo Signori I bestazzo Shonen Ma Come si chiamava? Non lo so vabbè ragazzi Momento epico Finalmente ho uno di sti cosi tra le mani Non mi sembra vero, l'ho sempre visto nei video Dio caro è enorme Madonna ma è un Proprio eretto Dov'è il capitolo? Non c'è il capitolo? Oh eccolo Madonna C'è Armini che mangia il cazzo Devo dire la verità La carta me l'aspettavo di una qualità peggiore Abbiamo questa tavola che ci sono delle tettazze molto belle Le tettazze sono sempre interessanti La carta me l'aspettavo molto peggio Invece è una carta molto incartata Oh bellino Guardate quanto è fiera Guardate quanto è fiera questa Illustrazione Non so parlare Non le posso fare queste cose Vi regalano anche questa cosa qui Con l'illustrazione E quella che è in copertina E tu quello che puoi fare è ficcartela in culo Potrei farvi vedere un po' del capitolo Ma non vorrei far rispondere a qualcuno Ma sai che cazzo me ne frega? Ma vaffanculo Perché non vi leggo di manga stronzi che guarda dell'anime Vaffanculo anima gli oli di me Madonna io queste cose le ho sempre viste nelle scan Porca puttana Per cercare proprio sotto mano Mi sembra tutta un'altra cosa Porco giuda Questo tra dieci anni varrà spero 2000 euro Sennò sbuttare i soldi per nulla Tanto non ci farò mai un cazzo Insomma anche il giapponese Oni-chan Ma è enorme Cioè io una cosa leggende non l'ho mai avuta in mano È la cosa più grande che abbia tenuto tra le mani in vita mia Ma dove me lo ficco adesso questo? Porca puttana Non c'ho spazio Qua è tutto stretto Qua è tutto stretto?